Buongiorno, sono Lorenzo Zaffagnini, consulente alla vendita della concessionaria Svablus di Forlì. Oggi parleremo dei tempi di ricarica per una macchina elettrica. Utilizzando colonini di ricarica rapida potrai fare il pieno in breve tempo. Il tempo di ricarica dipende dalle stazioni di servizio che utilizzi. A casa, con una doorbox di 11 kW, potrai caricare la tua auto in una notte. Mentre, per una ricarica pubblica o l'ironity, il tempo si riduce sensibilmente.